Ma come si guadagna? Anche qui non è facile da stabilire esattamente. Negli anni ho letto storie di grande successo da entrambi i lati. Le storie più famose di solito riguardano imprenditori che hanno fatto la cosiddetta exit, che è quando un'impresa viene venduta per una somma specifica, anche se solo una piccolissima percentuale di chi ci prova.